Ciao a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video, con un nuovo episodio della Serie B di Futsal Oggi c'è un derby, c'è Sant'Agata Balza e con questa partita si chiuderà il campionato di Serie B di Futsal Eh sì ragazzi, siamo arrivati all'ultimo atto di questa stagione, iniziata per Fabio a dicembre Una stagione sicuramente bellissima, purtroppo però il campionato si sta concludendo ora, proprio nel periodo migliore per Fabio Sì, abbiamo visto comunque come Fabio nell'ultima giornata stia giocando molto bene, abbia realizzato anche diversi gol e assist Vediamo se anche oggi riuscirà a chiudere in bellezza questo campionato E andiamo a scoprirlo come sempre, andando in macchina, facendo le domande e entrando dentro Fatti verso la palestra di Sant'Agata, noi come sempre iniziamo il giro di domande per l'ultima volta in questa stagione Andiamo allora con la prima domanda da parte di ValeSpacker22 che dice Fabio approfitto della tua prima munizione, secondo me ingiustificata, per dirti che dalla prima partita che ho visto Tendi un po' ad accentuare i contatti e a simulare Questo vizio sicuramente te lo porti dal calcio, però penso sia carino provare ad eliminarlo Visto l'atteggiamento generale di chi gioca a calcio a 5 Detto questo stai spaccando Grazie, secondo me non simulo perché faccio fatica, ho sempre fatto fatica anche nel calcio a simulare Ad accentuare i contatti sì, lo faccio Siamo praticamente costretti ad accentuare un minimo perché altrimenti i contatti che secondo me sono fallosi non vengono fischiati Per quanto magari riguarda la munizione settimana scorsa, si è qualcosa da dire su quanto è successo? Vabbè niente, solo che ovviamente non era una simulazione Ma si vede anche dall'atteggiamento del corpo sia mio che degli avversari Stavano tutti rientrando verso la prima porta e stava anche già accettando la munizione del giocatore avversario Andiamo con le domande da parte di Diego Domeniconi che dice Fabio, quanti anni hai? Se sei ancora sotto i 20 anni, seguendo anche io il futsal, ti dico che secondo me entro 2-3 anni hai buone possibilità anche di arrivare in Serie A Questa affermazione mi aiuta nella domanda Credi che nel futsal sia più facile arrivare ai massimi livelli? Grazie Diego, sono del 2002 quindi in realtà hanno 21 di anni, spero che sia valido comunque Secondo me è un po' più facile arrivare ai massimi livelli nel calcio a 5 rispetto al calcio perché ovviamente è praticato da molte meno persone Poi arrivare a massimi livelli è difficile in tutti gli sport, però sì, se compariamo al calcio è un po' più facile Andiamo con la domanda da parte di Davide Luchino che dice Intanto complimenti a te Fabio e ai tuoi fratelli per il canale, io e il mio amico non ci perdiamo neanche un tuo video Ma ci farei vedere intanto anche qualche sessione di allenamento di calcio a 5? Grazie mille Davide, sì sicuramente è un'idea interessante, però gli allenamenti diciamo che sono una cosa anche un po' riservata Dato che lo possono vedere tutte le altre squadre che affrontiamo in campionato, quindi magari per il momento è meglio di nuovo Andiamo con la domanda da parte di Yoma Quaresma che dice Fabio, ora che sei una star, hai mai pensato di cambiare pettinatura? Non credo di essere una star, però ho pensato di cambiare pettinatura, mi servono dei suggerimenti Suggerite tante pettinature per Fabio, magari la prossima stagione inizierà Chissà con un nuovo taglio di capelli molto particolare, molto accattivante Che idea avevi te come taglio di capelli particolari? No, non dico niente qua Adesso vi leggo io una domanda di Libdo di Cita che dice Complimenti a Fabio e alla squadra per la partita, ovviamente anche a voi ragazzi Volevo chiedere come fate a sapere il numero dei gol e i nomi di tutti i giocatori, avete un elenco? Allora per quanto riguarda il conoscere i nomi di tutti i giocatori è una procedura che di solito facciamo con la distinta Quindi chiediamo alla squadra avversaria oppure direttamente al direttore di gara Di farci vedere a distinta appunto degli avversari Poi da lì riusciamo ad avere appunto tutti i nomi per la telecronaca Per quanto riguarda invece magari le statistiche dei giocatori, gol e assist Utilizziamo palla al centro, tutto campo che sono due siti comunque molto affidabili e precisi Per quanto riguarda anche le statistiche dei giocatori Eccoci arrivati in palestra, Cri, come ti senti alla vigilia di questa partita? Sono stanco Come mai? Perché ieri ho giocato Fatto gol anche? Sì, fatto gol Ragazzi seguite su Instagram il nostro fotografo crismo1997 Per consigli di foto e anche di fiducia Eccoci quindi all'interno della palestra comunale di Sant'Agata Vediamo alle nostre spalle il campo su cui a breve mettere i piedi Come arriva la partita di oggi anche psicologicamente se era un buon periodo di forma Come ti senti? Sì, mi sento bene Purtroppo oggi abbiamo molte assenze ma comunque siamo tutti carichi penso per questa ultima partita stagionale E sicuramente daremo il massimo per concludere in bellezza questa stagione Quindi vediamo come andrà Hai disputato una grandissima partita nell'ultimo match contro il Bordighera Oggi sarà difficile ripetersi ma sicuramente i presupposti sono buoni Sì, cerco sempre di dare il massimo, di fare gol magari, di sbagliare meglio rispetto a settimana scorsa Perché siccome è molte volte esagerato Quindi cerco sempre di equilibrare di più le giocate E ovviamente anche di essere decisivo se riesco in fase offensiva Eccoci Fabio anche con le mie domande Allora innanzitutto complimenti perché sei in grandissima forma nell'ultimo periodo E sei riduce da 4 reti e 3 assist nelle ultime 5 giornate Sicuramente un bottino importante che vorrei incrementare ulteriormente quest'oggi Sì, vabbè, come hai detto anche le altre volte sicuramente mi fa piacere segnare Sono detto guardi che mi autoimpongo diciamo Però non voglio essere ossessionato dal gol Magari se riesco a segnare è un plus Ok, invece come sono andati Fabio? Gli allenamenti questa settimana considerate anche le tantissime assenze che avrete quest'oggi? Sì, sicuramente gli allenamenti in generale l'ultima parte di stagione è stata condizionata da molte mancanze Da infortuni, problematiche varie Oggi non siamo proprio al top della forma in quanto squadra Tra l'altro ultima partita al balza o l'anno prossimo rimarrai qui? Non lo so ancora sicuramente qua Mi sto trovando benissimo quindi mi piace per continuare qua Vediamo comunque ci sono diverse cose da vedere Poi valuteremo Allora ragazzi non dico 10.000, non dico 5.000 Se questo video arriva a 7.500 like Vi diciamo Fabio dove andrà a giocare l'anno prossimo Detto questo noi ringraziamo Fabio come sempre per l'intervista pre partita che ci ha concesso Anche perché è difficile concedere un'intervista Secondo me prima di una partita io sarei comunque molto concentrato sull'obiettivo e farei fatica Probabilmente a rilasciare dichiarazioni Quindi in bocca al lupo e ci vediamo dopo Raggiungi la tua terza marcatura consecutiva Speriamo Dai Eccoci ragazzi finalmente sul parquet della palestra di Sant'Agata Per raccontarvi quella che sarà la 26esima giornata del campionato di Serie B di Futsal Nonché ultimo appuntamento per questa stagione Sì e comunque è anche una partita molto equilibrata tra due squadre che sono lì in classifica Ottavi contro Noni Balza a 30 punti Sant'Agata a 23 Vediamo come si comporteranno anche oggi gli ospiti Che vengono da un'ottima vittoria nell'ultimo match Eh sì prevedremo come riuscirà a chiudere la stagione la squadra di Mr. Velimir Andrej Che qualora vincesse otterrebbe i 33 punti gli anni di Cristo Inoltre c'è da ricordare anche il periodo di forma del balza Che reducia da 9 punti nelle ultime 5 apparizioni Il Sant'Agata invece 5 Però c'è da ricordare che anche per i padroni di casa il periodo è abbastanza positivo Sono stati l'unica squadra assieme al Bologna a riuscire a fermare l'Olimpia Reggio Ma a ottenere un punto Così come poi anche il pareggio interno per 3-3 contro l'Atlante Grosseto Due successi Se non per quanto riguarda i tre punti Comunque per quanto riguarda il morale e la classifica Sono risultati che fanno super bene Sì tra l'altro una cosa che volevo aggiungere È la squadra che pareggia di più in questo campionato Benotto al Guinness World Record della Serie B di Futsal Sì inoltre comunque ricordiamo che nel match di oggi Il balza arriverà con tantissime assenze Sia per appunto gli squalificati dell'ultima giornata Che ricordiamo essere Ferrante essendo difilato Fusca Inoltre anche lui oggi non ci sarà Ovviamente anche Noa e Pozzi essendo stati espulsi Inoltre ci sono anche diversi giocatori in distinta che non sono top della forma Vedi Emanuele Fogli o anche Ayman Maizi Tra l'altro torna oggi anche in distinta Gamberini Però probabilmente non sarà in condizione di disputare molti minuti Vediamo se comunque gli verrà concesso qualche spezione di gara E vedremo anche quale sarà l'epilogo del testa a testa Tra i due capocannonieri di entrambe le squadre Da una parte troviamo Roberto Conti 25 gol in stagione 24 in Serie B di Futsal Dall'aperto posto invece troviamo Lorenzo Canale 20 reti in questa Serie B 22 complessive Ancora indisponibile Bruno Salerno Che ha rimediato proprio l'infortunio nel match d'andato Un problema al menisco Operazione per lui Uno dei giocatori con più esperienza Non ci sarà Dispiace sportivamente parlando E allora noi andiamo ad assistere a questa 26esima giornata Andiamo a vedere come si comporteranno le squadre Per l'ultimo match della Serie B di Futsal di questa stagione Come sempre andiamo a mettere a posto l'attrezzatura E poi entriamo dentro con Sant'Agata Balsa Andiamo Eccoci dunque finalmente nella nostra postazione All'interno della palestra comunale di Sant'Agata Per raccontarvi quella che sarà la 26esima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Ultimo appuntamento per questa stagione calcettistica Sant'Agata Balsa Entrambe le squadre vorranno chiudere il loro campionato Nel miglior modo possibile Il Balsa ha trovato successo nell'ultimo match Per 7-3 contro il Bordighera Dall'altra parte anche Sant'Agata Vincendo per 6-5 nella trasferta Contro la Vigor Fucecchio Tra l'altro quando gioca in Sant'Agata È sempre garantito lo spettacolo Ricordiamo anche il primo match stagionale Quello con cui aveva aperto appunto Il campionato di Sant'Agata Finì per 15-10 per la San Giovanesi In quel caso 25 gol totali Cosa mai avvenuta nel corso di questo campionato E intanto scorre la classifica Vediamo quanto sia importante la partita di oggi Per il Sant'Agata Che deve sicuramente vincere per ipotecare Quello che il discorso non ha posto Stim che bacia la telecamera Il pugno di Fabio Mister Veli Mirandrec Ed ecco inquadrato anche Fabio Che arriva a questo match Sicuramente in un buon periodo di forma Due assist e un gol per lui In ultima sfida contro il Bordighera E adesso è anche il momento Della foto di squadra Della foto di gruppo E vedremo se oggi Il numero 11 di Baricella Avrà un minutaggio maggiorato Complici anche le tantissime assenze Manca Pozzi Manca Ferrante Due punti fissi del balza E tanti indisponibili Ma adesso andiamo a leggervi Quelle che saranno le formazioni Che scenderanno in campo Partiamo dal balza Che schiera Dibitonto in porta Davanti a sé come ultimo Conti Laterale destro Fabio Di Mauro Laterale sinistro Tosca E come pivot Simone Dalla parte opposta Invece troviamo Anichiarico in porta Davanti a sé come ultimo Straface Laterale destro Canale Laterale sinistro Quacquarelli E come pivot Di Norcia Ormai tutto pronto Manca pochissimo Ecco Fabrizio Simone Sul punto di battuta Per dare il via Alla ventisesima giornata Del campionato di Serie B di Fuzzal Che avviene ora Con Conti Che tocca Il suo primo pallone dell'incontro Il dialogo con Tosca E ancora il capitano Del palazzetto dello sport di Baricella Che va da Simone Ancora Superbike Cerca una soluzione Va a destra Poi da Fabio Attaccato da Quacquarelli Il fallo Da parte del numero 8 Del capitano Del Sant'Agata Sarà calcio di punizione Per il balza Qui bello spunto Subito Non appena iniziata la partita Da parte del numero 11 Che viene toccato all'altezza Del piede destro Sì Buon lavoro subito Da parte di Fabio Che oggi tra l'altro Ritrova la titolarità Dopo il match contro il Grosseto Vediamo come si comporterà Attenzione Conti Che va da Fabio La tocca Quella punta del piede sinistro Quell'esterno Non riesce a inquadrare Lo specchio della porta Forse avrebbe potuto Adoperare anche il piede destro In questo caso Rivediamo ora dal replay Comunque è bella L'imbucata di Superbike Bravo anche Fabio Da rampiezza E poi dopo non è riuscito A centrare lo specchio della porta Sì probabilmente Non ci sarebbe arrivato Nemmeno con il piede destro Su questa palla È un pelettino lunga Però comunque Trama molto interessante Da parte del balza Che inizia abbastanza bene Questo match Sempre il numero 5 La sua lata Lì indietro Innescare Toschi Da questi acconti Va a destra Dove trova puntualmente Fabio Che poi decide Di tornare indietro Sempre dal capitano Ancora Conti Cerca la verticale Per Fabrizio Simone Che chiama L'inserimento di Toschi Capisce tutto però Di Norcia E può ripartire Ora il Sant'Agata Adesso Strafaccia Attaccato Rischia un po' Poi se la cava così e così Anche con la collaborazione Di Canale Che cerca le finte Su Fabrizio Simone Da questi a Quacquarelli Strafaccia Ancora il possesso di Strafaccia Che va sempre dentro Da Quacquarelli Da questi ancora al numero 13 Possesso Dell'ultimo Del Sant'Agata Che va sempre da Canale Che poi Si ferma un attimo Perché Il compagno Non è al top Si riprende ora Adesso Si rinnova il duello Lorenzo Canale Fabrizio Simone Il 12 Cerca di andare da Di Norcia Da questi a Strafaccia Che pensa per un attimo Alla conclusione Poi va sempre a destra Dove trova Canale Va dentro Poi per Di Norcia E poi il destro Di Quacquarelli Si perde ampiamente a lato Tutto sotto controllo Per Di Bitonto Che va ora lunghissimo A cercare proprio Fabio Che sbaglia lo stop Aggredito anche da Strafaccia Però lo stop difettato Del numero 11 Complice ora La nuova rimessa in gioco Da parte del Sant'Agata Intanto il direttore di gara Ha qualcosa da ridire Alla panchina Proprio dei padroni di casa Esce ora Di Norcia Ed entra il numero 7 Uno dei giocatori Sicuramente più promettenti Mohamed Bahi 8 gol per lui Fino ad ora in stagione Adesso proprio Bahi Che va da Strafaccia Ancora dentro Il numero di Quacquarelli Che prova il destro Alta Sopra la traversa Buono squillo Qui da parte di Quacquarelli E' già il secondo squillo Da parte Del Sant'Agata Nel giro di pochi minuti Ora prova a spingere Un po' di più La formazione di casa Adesso Fabrizio Simone Che va da Toschi Viene Fabio in contro Simone va lungo Cerca di servirlo Proprio il 14 Che poi si va a riprendere Un pallone Su strafaccia Attenzione Fabrizio Simone il destro Annichiarico c'è Prova a partire Proprio Superbike Che va ora a pescare a destra Fabrizio Simone Che cerca il pertugio giusto Che cerca di trovarlo Con la collaborazione di Toschi Che va ora a destra da Fabio Lo stop è così e così Da parte di Fabio Che poi rimedia Fordice su strafaccia Vuole il centro del campo Fabio Bello lo squillo Bello l'acuto Qui da parte di Fabio Di Mauro Che non riesce a centrare Però lo specchio della porta Si buona giocata Da parte di Fabio Che è riuscito a trovare Il centro del campo Peccato un po' per la conclusione Che è riuscito un po' strozzata Adesso ancora Fabio in possesso Recupera un pallone Prova a ripartire Si sposta la palla sul destro Strafaccia è duro Forse con un fallo Ma non secondo il direttore di gara Che non lo ravvisa E fa proseguire Dunque strafaccia Prova a ripartire Va da Canale Uno sguardo davanti a sé Va a servire Bahi Interviene Conti Bahi lo fa fuori secco Bahi dentro per Canale Arriva il gol Di Lorenzo Canale 22esimo centro di stagione 21esimo in campionato E vantaggio Sant'Agata Si ottimo lavoro qui Da parte di Bahi Che sicuramente Offre un cioccolatino A Canale Da lì non può sbagliare Conti qua rischiato Ad uscire secco E forse è quello che ha Creato maggiormente spazio Al Sant'Agata Per aprire appunto le danze E quello che vale Gol del 1-0 Praticamente a porta sguarnita Va a calciare Lorenzo Canale Per lui È un gioco da ragazzi Intanto esce ora Fabio Di Mauro Entra Ettore Fadiga Il dottore Ritrovato in questo incontro Dopo due partite In cui non è stato presente Adesso rimesso in gioco Ancora in favore del Balsa Con Mordacci Che prende la palla in mano Cerca una soluzione La trova Andando all'indietro Da Robiconti Superbike La suola Poi le finte Il destro Straface Devia in maniera miracolosa E sventa Il pallone Da Da Maizi Ti vediamo qui dal replay Bello l'intervento di Straface Che riesce a prevenire L'ipotetico tocco Di Ayman Maizi Il caimano Che avrebbe potuto depositare In porta Adesso il mancino Ancora di Conti E poi il palo Forse anche Si ritrova la palla Lì a Nicchiarico Qual è il possesso Del numero 29 Il nino Che va da Robiconti La finta Cercare di caricare il destro Non ci riesce Poi Amma Maizi Attaccato Da Lofi E poi Conti il destro Destro velleitario Però non inquadra Lo specchio della porta Si continua a provarci Conti che si è acceso In questi ultimi minuti Non ha creato in questo caso L'occasione Precedente Adesso attenzione Il pressing E c'è stato un passaggio Un retropassaggio Che non ci può essere Perché non si è superato Alla metà campo Dunque punizione a due Da una posizione interessante Da una mattonella insidiosa Vediamo il caimano Che parla con Conti Probabilmente vorrebbe Questo calcio di punizione Però sappiamo Delle doti Dello specialista Nonché del capo cannoniere Del balza Su questi calci piazzati Tutto pronto ormai Fatica Tocca per Robiconti Superbike Lofi tocca e non basta Si gonfia la rete Ed è 1-1 25esimo sigillo In campionato Per Robiconti 26esimo in stagione Si sicuramente Un gol un po' fortunoso Da parte di Conti Però penso l'abbia cercato Perché si può vedere Anche dalla sua postura Che non ha cercato la potenza Quanto più la precisione E infatti Con il piatto Riesce a metterla In mezzo alle gambe Di Lofi Che spaglia un po' Perché gira il corpo E questo lo porta A non vedere il pallone E la palla entra Per quello che vale Il gol del 1-1 Intanto rimessa in gioco Ora in favore del balza Con Mordacci Che gioca all'indietro Proprio da Conti Da questi a Fadiga Ancora il numero 3 Elegante Dentro per Conti Da questi al Caimano Che sfida strafaccia Il Caimano Cerca lo spazio Per rientrare Non lo trova Quindi va all'indietro Da Conti Che sfida un po' tutti Conti col mancino In meno di un minuto Doppietta di Conti Fulmina c'è il sereno Nel miglior momento Probabilmente del Sant'Agata La ribalta così Chissà se c'è stato L'ultimo tocco Da parte del Caimano Rivediamo qui Molto bello lo strappo E poi dopo l'ultimo tocco È di strafaccia Che devia involontariamente Nella sua porta Si rispera il numero 13 E 2-1 balza Sì è ancora lui Che c'è sempre Nei momenti di difficoltà Robiconti Ha trovato comunque Un mancino potente Poi è vero C'è stata la direzione Sicuramente decisiva Però è sempre lui Che si prende la squadra Sulle spalle Nei momenti di difficoltà Robiconti realizza Il 2-1 Sorpasso balza Adesso ancora gestione Di Bailly Strafaccia Dentro per Quarelli Che prova a girarsi Il numero 8 Poi bella l'imbucata Per Bahì E arriva anche Il gol di Mohamed Bahì Nono centro di stagione Bellissima la palla Di Massimiliano Quarelli E poi Si presenta davanti al portiere Il numero 7 del Sant'Agata Glaciale Non perdona Sì bravissimo Bahì Che tra l'altro Era stato anche colui A servire Canale Per il gol Dell'1-0 E adesso è lui A punire il balza E trovare il nuovo pareggio È un giocatore che si garante Sta mettendo in campo Tutte le sue qualità Intanto rientra ora Fabio Di Mauro Ed esce il caimano Ai mamma Izi Il punteggio torna sul 2 pari Adesso vediamo Conti Che pensa al destro Poi va a destra Da Fadiga Viene attaccato Prontamente da Di Norcia Da questi Da Quacquarelli Che cerca il pallone lunghissimo Dove però Non c'è nessuno Adesso Fadiga Va indietro da Conti Che pensa Nuovamente al tiro Sfida Di Norcia Poi va al destro Palla alato Conti tira da tutte le posizioni Adesso attenzione Quacquarelli Che cerca la verticale Fabio sporca una volta Sporca due E poi prova a rilanciare Buono qui L'intervento Il ripiegamento difensivo Da parte del numero 11 Del Baza Che sta crescendo Robiconti Cerca di avanzare Va a sinistra Da Fadiga Che cerca a Fabio Lo stop Da parte del numero 11 Che viene accredito Da Quacquarelli In maniera regolare Per il direttore di gara Che lì ha due passi Adesso Lorenzo Canale Prova a ripartire Il possesso del numero 12 Che porta avanti Il pallone da ultimo Sempre Lorenzo Canale Che va a sinistra Dal neontrato Monaco Che dribleggia In mezzo al traffico Conti sporca un pallone Non ha sufficienza Ci arriva Quacquarelli Che gioca all'indietro per Bachi Ancora Canale Pensa al sinistro Poi dialoga molto bene Con Quacquarelli Ancora Canale Di Bitonto Spettacolare Poi Canale ancora in conduzione Molto bene con la suola Va dentro per Quacquarelli E arriva il gol Del 3-2 Del nuovo sorpasso Da parte di Massimiliano Quacquarelli Che prima disegna assist E poi si mette anche in proprio Con il tredicesimo gol In campionato Si bravo Di Bitonto Prima nell'intervento Ma su questa conclusione Non può nulla Anche perché è sporcata Arriviamo tutto da replay Bravissimo Quacquarelli Comunque a crearsi lo spazio Per arrivare alla conclusione Ecco qui il buon lavoro Da parte di Canale Lo scarico E il tiro Deviato La fatica Nulla da fare per Di Bitonto E 3-2 Molto bene anche Per quanto riguarda L'azione personale In precedenza di Lorenzo Canale Adesso viene chiamato Il time out Da Veli Mirandrej Che sta rettificando Qualcosa in campo Dice così Non si può Sicuramente non è soddisfatto Ancora Fabio La conduzione elegante Del numero 11 Che pensa per un attimo Puntare Poi torna indietro da Robiconti Da questi a Fabrizio Simone Che ha strafaccia davanti a sé Prova il destro Fabrizio Simone Annichiarico la tiene lì Attenzione Fabio Ma arriva per primo Quacquarelli Che sventa Potenziali minacce Per la porta difesa Quest'oggi Annichiarico Adesso il pallone Finisce tra i piedi Di strafacce Ma adesso attenzione Alla ripartenza Da parte di Quacquarelli Che fa fuori tutti Va dentro da Monaco Il destro Deviato da Andrea Simone Poi di Bitonto Con la manona a sinistra Che parata Fantastico di Bitonto Un colpo di rene eccezionale Da parte del numero 1 Del balza Parata complicatissima Che mantiene ancora vivo Il balza Adesso pronto Bahi La calcio d'angolo Va a scucchiaiare All'indietro Per Quacquarelli Da questi a Monaco Che torna indietro Sempre con la collaborazione Dell'otto Da questi a strafacce Che cerca l'imbucata Tocca a Monaco Che riesce a tenere Anche la palla All'interno Del rettangolo di gioco Il dialogo poi Tra il 13 e il 2 A propizzare l'otto Che cerca di andare Ancora dentro dal 2 Troppo lunga Ma adesso Seguiamo la ripartenza Di Andrea Simone Che cerca E trova Fabio Da questi a Robiconti Superbike Prova ad avanzare Il numero 7 Che pensa al tiro Lo prova Annichiarico Ancora una volta Robiconti Ancora una volta Annichiarico Che sicuramente Sta disputando Una gran partita Così come è l'andata Adesso Andrea Simone Cerca il pallone dentro Attenzione La ripartenza Un 2 contro 2 Monaco contro Fabio Monaco Riesce a essere Contenuto molto bene Dal numero 11 del balzo E poi Fabrizio Simone Prova a calciare Palla alta Sopra la traversa So Robiconti Che va da Simone Cerca l'imbucata Per il fratello Capisce tutto Monaco Che prova a ripartire Molto buona La prestazione Da parte anche di Marco Monaco Che è entrato molto bene In campo Adesso dolorante Alla spalla sinistra Fabrizio Simone Che finisce giù Fabio Li ha due passi Assieme a Monaco A sincerarsi delle condizioni Poi arriva anche Il medico Si rialza ora Quando mancano 4 minuti e 17 secondi Al termine Di questa prima frazione Di gioco Adesso Conti Che va dentro Da Fabio Che sfida Canale Fa fuori secco Fabio dentro La palla per nessuno Molto bene lo spunto Qui da parte Del numero 11 Del balza Che però Non è riuscito A servire nessuno Al centro Ancora la conduzione Da parte di Fabio Di Mauro Che va a destra Da Ettore Fadiga Che cerca ora Una soluzione Cerca una sovrapposizione Se allunga un po' il pallone Poi va dentro da Fabio Che carica il sinistro Bravissimo Lofi Poi la palla rimane La E straface Riesce a far ripartire I suoi bravo Conti In chiusura Sull'Uffi Ed una straface Cerca l'imbucata Capisce tutto Però Toschi Che ora cerca di gestire Con la collaborazione di Fabio L'1-2 Tra il 14 e l'11 Non si chiude Perché arriva Un ottimo ripiegamento difensivo Da parte di straface Che può ripartire Lo fa con la collaborazione Di Di Norcia Che gestisce il pallone Lo pulisce Lo gioca nuovamente Per il numero 13 Da questi a Canale Che vuole il centro del campo Lo tiene Poi va a servire Lofi La solata su Fabio Lofi Dentro per Di Norcia Non ci arriva Conti Ed è 4-2 Antonio Di Norcia Sigla il doppio vantaggio Per il Sant'Agata Una manovra nata Dal proprio fantasista Lorenzo Canale Poi confezionata da Lofi Un cioccolatino Per Di Norcia Tutto troppo facile Per il Sant'Agata Che non ha trovato L'opposizione Di un balza Che dietro Sta scricchiolando Adesso vediamo Fatiga Che va a cercare Proprio Mordacce Capisce tutto ancora Canale Che può ripartire Sprinta sempre il 12 Che gioca ora Questa sfera al centro Per Lofi Che va dentro Per Di Norcia Doppietta più veloce Nella storia del Futsal Per Antonio Di Norcia Che confeziona così Addirittura la manita Per il Sant'Agata Ai danni del balza E 5-2 E manca un minuto Mordacci Si va a riprendere la sfera La gioca ora in direzione Fatiga Ancora il numero 3 Inventa per Mordacci Il numero del Numero 29 Poi attenzione Robic Conti super bike Il destro Anni chiarico Ma la palla rimane lì Attenzione ancora Toschi Rimessa in gioco In favore del Sant'Agata Seguiamo Ettore e Fatiga E cerca la palla dentro Anni chiarico Tocca E non arriva di pochissimo Mordacci Su una sfera Insidiosa E ora manca Pochissimo Con Anni chiarico Che va lunghissimo A cercare l'ufficchia Domestica questo pallone Attaccato poi da Fadiga Il numero 11 Ma la palla è uscita Può ribattere ora Proprio Ettore e Fatiga Che va da Robic Conti super bike Che calcia super Che non c'è più tempo Finisce ora La prima frazione di gioco Si conclude Col punteggio di 5-2 Per i padroni di casa Un balza che non sta riuscendo A tenere i ritmi Di un ispiratissimo Sant'Agata Eccoci al termine Dei primi 20 minuti di gioco Effettivi Il punteggio Alla palestra comunale Di Sant'Agata Dice 5-2 Per i padroni di casa Sicuramente una bella partita Però il Sant'Agata Sicuramente ha dimostrato Di avere qualcosina in più E di avere più motivazioni Si Comunque come dicevi te Una bella partita 7 gol in un primo tempo Non si vedono spesso E di sicuro appunto Questo potrebbe essere Anche causato Dalla situazione in classifica Delle due squadre Penso che comunque I padroni di casa Stiano andando a velocità Maggiore rispetto al balza Abbiamo un po' più di forza Nelle gambe E questo appunto È stato certificato Anche dal risultato Del primo tempo 5-2 E su Fabio Fabio sicuramente Non è andato male Però un po' nel marasma Generale ha fatto fatica Anche lui Si effettivamente Fabio magari non sta Facendo la sua migliore partita Ma anche considerando Le sue radici prestazioni Però comunque Non penso Stai disputando un brutto match O intanto magari Qualche situazione In cui è vicino alla porta Potrebbe gestirla All'inizio del primo tempo Detto questo Noi possiamo andare all'interno Del secondo tempo Catapultiamoci Vediamo quale sarà L'esito finale di questa sfida Andiamo Eccoci di nuovo in onda Per seguire assieme Quello che sarà L'epilogo di questi Secondi 20 minuti di gioco Vedremo quale sarà La reazione da parte Della squadra di Mr. Veli Mirandrej Ma è tutto pronto Di Norcia gioca Questo primo pallone All'indietro per strafaccia Da questi a Quacquarelli Ancora il numero 13 Cosa ci dovremmo aspettare Da questo secondo tempo Fre? Sicuramente nel primo Abbiamo visto un ritmo Molto incalzante Spettacolo anche nei prossimi Minuti dei gioco Dunque Robi Conti Davanti a 6 a Canale Un cliente scomodissimo Lo sai il 7 Che vorrà all'indietro Dal 14 Da questi al 29 Di Norcia lo attacca Molto bene il lavoro di Mordaci Che vuole il centro del campo Non glielo concede Però Lorenzo Canale Il tuttocampista del Sant'Agata Uno dei giocatori Più pericolosi Dei padroni di casa E forse dell'intero campionato Ma seguiamo il 12 Che va da strafaccia Da questi a Di Norcia Lavora bene questo pallone Il numero 9 Che torna indietro sempre da Canale Che fa fuori il portiere Canale Conti sulla linea E poi di Norcia Si divora La tripletta Nonché il suo ipotetico 14esimo gol in stagione Ad un passo Dal 6 a 2 Un passo dal capo Il balza Che adesso riparte Con Robi Conti Superbike Che va da Mordaci Sbaglia lo stop Il numero 29 Capisce tutto qua Quarelli Visavi con Di Bitonto Quarelli Doppietta 14 in stagione Immagini bellissime L'abbraccio In tribuna E adesso Belle queste immagini Tutto troppo facile Per il Sant'Agata È stato fischiato un fallo Che batte proprio ora Il numero 13 Che va da Bahi Ancora strafaccio Attaccato dal Caimano Buca all'intervento Il 13 Adesso un po' di confusione E Aiman Maizzi Va dentro per Fabrizio Simone La palla di Manigliani Anichiarico Intervento incredibile Da parte del numero 1 Del Sant'Agata Qui buona La risposta del balza Con Aiman Maizzi Anichiarico c'è C'è il destro caldo Il numero 8 Quarelli Che vorrebbe ora la sfera Lo accontenta Bahi Lo fa sfociare ora Il suo destro Quarelli Però la palla si perde Ampiamente alta C'è anche il cambio Entra Fabio Di Mauro Con la 11 Esce Giacomo Toschi Con la 14 Vediamo se è riuscito A dare il suo apporto Cerca sempre il numero 12 Di creare Lo fa con la collaborazione Quarelli che va al destro Palla alta Sopra la traversa Bellissima la parata Di Nicola Di Bitonto Adesso Canale Va subito ad indietro Abahi Altro destro E adesso il balza Si vede passare i palloni Da tutte le parti Ma seguiamo Nicola Di Bitonto Per la reazione Assieme a Ettore Fadiga Che prova a ripartire Uno sguardo attorno a sé Va a premiare Andrea Simone Si alza Il dottore Si abbassa il caimano Che riceve ora la sfera D'Andrea Da questi a Fabio Che punta Quarelli Buono il dialogo Con Andrea Simone Che va con la punta Del piede destro Calciare in porta Anni chiarico Però puntuale Bella trama di gioco Costruita qui Dall'undici E l'otto Adesso Può ripartire Ancora una volta Il Sant'Agata La palla però rimane lì Gestisce Ettore Fadiga Che va dal caimano Da questi Andrea Simone Prova a ripartire Ancora una volta Fabio vuole la palla Andrea Simone Preferisce passare Prima dal caimano Da questi a Fadiga Che va al destro La palla murata Rimane lì Lorenzo Canale Ripulisce E poi Quacquarelli Cerca l'imbucata Buono il pressing di Fabio A favorire Recupero palla da parte Del balza Ettore Fadiga Però sciupa Su questo passaggio Erroneo Adesso Bahi Pronto a giocare All'indietro per strafaccia Ancora Bahi Strafaccia Cerca Il dialogo ancora col set Capisce tutto Andrea Simone Che cerca lo spazio per il destro Lo vorrebbe palla Fabio Andrea Simone va indietro Da Ettore Fadiga L'attacca di Norcia Ettore Fadiga con la sola Il numero su di Norcia Fadiga Con la puta Vede la porta Calcia direttamente lui Ettore Fadiga Nono centro di stagione Per riaprire una partita Apparentemente chiusa La riapre il dottore Eh sì E questo è veramente Un grandissimo gol Da parte di fatica Gol di qualità Se ne va via Sulla fascia sinistra Con un tunnel E infatti arriva anche La paccheri di Bitonto Appunto A certificare di quanto Il suo gol Si è stato bellissimo 6 a 3 Partita comunque Non è chiusa Perché il tempo c'è Il tempo c'è E a meno 3 Adesso il balza Deve crederci Almeno per onorare Quest'ultima partita Di certo non conta I fini della classifica Il balza è ottavo Nel bene o nel male Però Non fa mai bene Perdere con un passivo pesante E comunque ci sta Non voler far troppa brutta figura Ma adesso seguiamo Andrea Simone Che trova una linea di passaggio Interessante per Fabio Che punta strafaccia Fabio si sposta al balza Sul sinistro Maizzi Devi a fuori dalla porta Il tiro di Fabio Che sarebbe entrato Clamoroso E vediamo quello che è successo Anche dal replay A un passo Dalla quinta marcatura In Serie B In questo caso A negargiela Non è stato un difensore Del Sant'Agata Bensì Aiman Maizzi Eh sì Per questo Di Fabio Sulla fascia sinistra E poi anche la conclusione Era probabilmente All'interno dello specchio Maizzi Cercato di riviarla verso la porta Anche se poi il pallone S'erbe entrato E qua chiaramente La partita Avrebbe potuto prendere Un'altra piega Chiaramente con eventuale 6 a 4 Tanto è entrato anche Il 2006 De Magistris Mattia Nelle file del Sant'Agata Ma adesso seguiamo Di Norcia Che va proprio da De Magistris Il sinistro di Bitonto Con la faccia quasi Rimessa affidata Ai piedi di Canale Contro un movimento Di De Magistris E arriva il gol Di Mattia De Magistris E apoteosi Sant'Agata E blackout balza Eh sì Simone la palla rimane E lì arriva anche il gol Ancora una volta Di Di Norcia 8 a 2 E adesso Il balza davvero Spera che questa partita Finisca in fretta Perché davvero Le cose non stanno andando Adesso vediamo anche L'abbraccio in tribuna Con Garofalo L'infortunato del Sant'Agata Belle Queste immagini Bello Il segno di coesione Tra parte Da parte dei giocatori Di tutto Il Sant'Agata Però Il balza Davvero Non c'è Eh sì Di Norcia La tripletta L'ha cercata diverse volte In questa partita E adesso Alla fine l'ha trovata Sicuramente L'ausilio Da parte del balza C'è tutto Ancora una volta Adesso seguiamo Fabio Che cercava una soluzione Va da Fadiga Da questi al Caimano Che cerca lo spazio per il destro Lo prova Straface Devia Rimesso in gioco In favore del balza Fabrizio Simone Uno sguardo al centro Il Caimano viene incontro La palla Arriva però a Fadiga Da questi a Fabio Che cerca una soluzione Cerca lo spazio per il sinistro Buona la palla Per il Caimano La palla rimane lì Simone il palo E poi Annichiarico Tocca in maniera Providenziale Ha disegnato una traditoria Bellissima qua Fabio un assist al bacio In mezzo a tre persone Peccato per il balza Che non sia riuscito A trovare la rete Del 7 a 4 Eh sì Questa era sicuramente Una bella occasione Anche per Simone Che non è riuscito A trovare lo specchio Peccato Sicuramente L'occasione era abbastanza ghiotta Ettore Fadiga Fabio Si riesce A districare bene In mezzo al traffico A gestire questo pallone Ancora per il dottore Da questo è il Caimano Che cercava una soluzione La trova in Fabrizio Simone Di prima per Fadiga Di prima per Fabio Che va al sinistro Annichiarico Chiude le gambe Svende il potenziale 8 a 4 Attenzione a Quacquarelli Che prova a ripartire Aimeo Maizi In chiusura Molto bene Per Fabrizio Simone Che ha spazio davanti a sé Carica il destro La palla rimane lì E chi la riconquista Se non il solito Lorenzo Canale Qualche numero Anche il numero 13 Aimeo Maizi Si riconquista la sfera E poi vada Fabio Il destro Ancora una volta Annichiarico Non è giornata Per il numero 11 Del palazzetto Dello sport di Baricella Che non riesce a trovare la rete Nonostante i numerosi tentativi Su questo punteggio C'è davvero Ben poco da inferire Ma adesso È il roraccio di Robiconti Capisce tutto Quacquarelli Che può ripartire Il numero 8 avversario Il capitano In buca dentro Ancora una volta Per Monaco Capisce tutto Fatica Che può ripartire Sbaglia anche il numero 3 Capisce tutto E il 13 Che va al destro Di Bitonto Para Il direttore di gara Dice che bisogna ribattere Perché C'è di Bitonto a terra E gli va anche Ignacio A sincerarsi Delle condizioni Di Bitonto Entra Stefano Che a cavale Steve Che difenderà la porta Del balza C'è ancora Monaco Punta un po' Tutta la retroguardia Avversaria Monaco sprinta via Cerca lo spazio per il sinistro Steve La palla rimane lì E poi Fatica Cerca di ripulire Cerca di mettere ordine Poi buona la giocata Da parte di Ettore Fatica Che va da Fabio Che cerca di girarsi Poi allarga bene Sulla destra Dove arriva Giacomo Toschi Che però non riesce ad evitare Che il pallone esca E ora Di Norcia Va dentro per Canale Cerca Ora l'imbucata per Bahi Fabio molto bene Sul numero 7 E sporca la sfera Ritarda un tempo di gioco Ma non impedisce All'Ofi di andare dentro Per Di Norcia Che trova anche Il suo poker personale Nonché quindicesimo gol In stagione Adesso diventa proprio Umiliazione balza Può ripartire il Sant'Agata Che va lunghissimo Dalla Ufi Di Bitonto non c'è Ma c'è Stilca a cavale Che lo ha rimpiazzato bene Perché riesce a arpionare La sfera e a farla sua Dunque Maizzi Che va in verticale Per Mordacci Che cerca il destro La palla Sibile il palo Ancora una volta E si perde Sul fondo Nulla da fare per il balza Toschi Vuole all'avanzamento Di Aiman Maizzi Poi ci ripensa Va ancora all'indietro Da Conti Che carica il sinistro Solo per un attimo Torna sempre indietro da Toschi Che fa fuori sia di Norcia Che strafaccia E poi larga a sinistra Per il Kemano E arriva la risposta Ancora una volta Di Anni Chiarico Che si fa trovare presente Fino in fondo E poi Mordacci Conti Un po' di confusione Strafaccia Cerca di mettere ordine Ora cerca di farlo Anche il capitano del balza Che gestisce la palla Con la sola Poi larga a sinistra Dove c'è sempre Aiman Maizzi Che sfida Bahi Poi deve rimpostare Lo capisce ora il Kemano Che va indietro da Toschi Da questi a Robiconti Superbike Davanti a sia strafaccia Lo guarda negli occhi Il numero 13 Conti cerca la verticale Per Mordacci Non lo capisce il 29 La palla si perde sul fondo E ora Conti va a giocare La sfera per il Kemano Da questi ancora Superbike Cerca una soluzione Conti Dunque il Kemano Ancora Conti Cerca l'imbucata La trova ora per Giacomo Toschi Che cerca la porta Diventa un passaggio Il tentativo di punta Per anni chiarico Strafacce Cerca di mettere in moto Bahi E con quest'ultima azione Si chiude ufficialmente Il campionato del Bals Il risultato finale Dice 9 a 3 Per i padroni di casa Sicuramente una partita Non positiva Per la formazione Di Mr. Veli Mirandrec Che però non va a intaccare Quello che è stato Il cammino Di questo splendido campionato Eccoci Fred Dunque in questo post gara Il punteggio finale Dice 9 a 3 Per il Sant'Agata Una partita dove I padroni di casa Hanno primeggiato Ma hanno voluto In maniera sonora Ampliare il passivo Evidentemente ci tenevano Tantissimo ad ipotecare Questo nono posto Sì Hanno fatto sicuramente Una bella partita Però dall'altra parte Non hanno trovato L'opposizione del Bals Che ha fatto sicuramente Una partita non ottimale Si è un po' lasciato andare Secondo me Abbiamo visto tanti errori Un po' Un dileziosismo Anche di tanta superficialità E alla fine il risultato è netto E ha portato il Bals A perdere appunto L'ultima giornata di campionato In maniera comunque Giusta Meritatamente Eh sì Si è perso malamente Ed è questo il peccato più grande Magari aver chiuso la stagione Con una nota così negativa Che comunque non deve andare A compromettere Quello che è stato il percorso Di questo anno Peccato ancora di più Il fatto che sul set 3 Fabio aveva fatto Praticamente il gol del 6-4 Tolto da Ayman Maiz Il Caimano Che si è vendicato Della palla non data Nell'ultima gara Un intervento così e così È riuscito a deviare Involontariamente fuori Sì è comunque un peccato Aver visto una prestazione Così da parte del Bals Non c'è da togliere Quanto di buono ha fatto Soprattutto nella seconda parte Di stagione Sicuramente il campionato del Bals Si può ritenere positivo Per quello che è stato E adesso noi Andiamo a sentire Fabio E chiudiamo questo campionato Di Serie B di Futsal Andiamo a sentire Eccoci dunque nel post partita Con Fabio Fabio purtroppo oggi Avete perso Avete perso anche con un passivo Abbastanza pesante Cosa ne pensi della partita Qual è stato il problema principale? Tanti problemi È stata una brutta partita Prima di tutto l'atteggiamento Siccome diciamo tutti Un po' Non hanno pensato a se stessi Data che era l'ultima partita Diciamo si erano più interessati Ad aumentare il proprio numero di gol Che a vincere Quindi siccome il problema principale È stato da questo punto di vista Poca coesione di squadra Non c'è stata la propria partita Non abbiamo creato nulla Davvero una brutta partita Da parte nostra Anche tu pensi di aver cercato In più riprese il gol? Sì L'ho cercato diverse volte Ma c'era un po' di confusione in campo E non sono ancora Abbastanza bravo Da risolvere il disordine Anzi Crea ancora più disordine Quando non vengo messo in condizione Quindi ho avuto un po' di problemi anch'io E qualche volta che sono andato al tiro Troppo non sono riuscito a segnare Sì Non ho avuto tantissime occasioni Anche questo È sintomo della brutta partita Peccato perché Perché il quinto gol in Serie B Lo stavi raggiungendo E c'è stata quella di reazione Sottoporta Quanto è rosicato lì? Sì Ho rosicato abbastanza Però Cioè il dispiacere più grande È stato in generale sulla partita Cioè davvero mi dispiace Concludere la stagione così Nel complessivo Ci possiamo dire soddisfatti Della stagione Quindi niente Cercheremo di ripartire Con quello che ho imparato E provare a fare di meglio La prossima stagione Quanto sono mancati Secondo te Pozzi, Ferrante e Fusca Quest'oggi? Sì Tutte le assenze sono pesate tantissimo Ovviamente Sia dal punto di vista mentale Perché Siamo tutti ritrovati a giocare Molti più minuti Rispetto a quello A cui eravamo abituati Sia dal punto di vista in campo Sono mancanze importantissime E quindi Si è vista tanto Io adesso direi Che possiamo andare con le domande di Francesco Andiamo da lui Tralasciando quella che è stata la partita di oggi Si è notato un bel cambiamento In confronto del balza Nella prima parte di stagione Infatti avevate collezionato Soltanto 11 punti Nella seconda ben 19 Per arrivare a raggiungere Quelli che sono stati I 30 punti stagionali Qual è stato il vero cambiamento nel balza? Ci sono stati tantissimi cambiamenti A livello di innesti nella squadra Sono arrivati Ferrante Kalai A Eman All'inizio ovviamente Il mio contributo era abbastanza scarso Poi con il tempo Sono iniziato a migliorare un po' Quindi sì E' stato principalmente I giocatori che sono arrivati Che hanno dato Sia il contributo in campo Sia a livello mentale Cambiano la squadra Come hai valuto in generale Questi che sono stati I tuoi primi sei mesi Nel mondo del futsal? Come ti sei trovato? E se effettivamente Ti piace di più del calcio? È un po' difficile dirlo Dopo questa partita È veramente brutta Però in generale Mi posso ritenere soddisfatto Mi sono divertito molto In questi sei mesi Non vedo l'ora Di ricominciare la prossima stagione Ovviamente con il futsal Allora noi adesso Richiamiamo Antimo E andiamo in chiusura Eh sì ragazzi Noi adesso possiamo andare in chiusura Ma prima di farlo Ci tenevo tantissimo A ringraziare tutto il balza poggese Partendo dallo staff Dal presidente Edo Da Luigi Caccavalle Il team manager Alessandro Poggi Il direttore sportivo L'allenatore Veli Mirandreic Insomma tutti coloro Che ci sono dietro Questa magnifica società Che ha dato modo Di poterci esprimere al meglio In una stagione davvero bella E inoltre ringraziamo Anche i ragazzi del balza Che hanno collaborato con noi In diversi video E comunque hanno fatto Un gruppo incredibile In cui Fabio si è ambientato benissimo Per cui li ringraziamo Ma ringraziamo anche voi Per il supporto Che ci hai dato nel corso Di questi mesi Infatti avete visto anche voi Come siamo cresciuti notevolmente Con i numeri Ci auguriamo che comunque Riusciremo a crescere notevolmente Anche nel corso dei prossimi mesi Te Fabio hai qualcosa da dire? Sì mi aggiungo anche io E ringraziamenti A tutta la società Ovviamente al mister Al presidente Al direttore sportivo Ovviamente ringrazio Anche tutti voi Per averci seguito Spero che continuerete a farlo E spero che vi stia piacendo Questa serie E in generale Il mondo del futsal Che a me personalmente Mi è piaciuto tantissimo Quindi spero che continuerete A seguirci Sia quest'estate Con i vari tornei Che faremo Sia dalla prossima stagione E vedremo con che squadra Vedremo se è sempre qua Forse questo è meglio no E niente concludiamo E allora noi ragazzi Vi ringraziamo anche oggi Per aver seguito questa partita E questo video Vi ricordiamo come sempre Di mettere un mi piace al video Commentate in tantissimi Poi chiaramente Questi commenti Riprenderemo all'inizio Della prossima stagione Magari E come sempre Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Siamo ancora Quasi a 100.000 iscritti Ragazzi iscrivetevi È molto importante Puntiamo a questo traguardo Entro l'inizio Della prossima stagione Quanto meno Mi raccomando Fatevi sentire Con il nostro supporto Che non è mai mancato In questi mesi Non fatelo mancare Nemmeno oggi Noi ci vediamo Con il prossimo video E con il futsal Con la prossima stagione Ciao ragazzi Ciao ragazzi